Arianna Grande vuole sposare il fidanzato Mac Miller Arianna Grande e Mac Miller si sposano, i dettagli del matrimonio segreto. Arianna Grande è pronta a sposare Mac Miller. A farlo sapere è lifestyle. Stando al magazzine americano la coppia avrebbe già iniziato i preparativi per le nozze, che saranno celebrati nel 2018. A quanto pare la cantante italo-americana vuole sposarsi il prima possibile, anche se una data precisa non è ancora stata scelta. Ma i due stanno discutendo già della location e della lista degli invitati. Arianna spera di sposarsi in Florida, dove è nata e cresciuta, e fare la luna di miele alle Hawaii. Inoltre, sembra che la Grande sogni un matrimonio del tutto bianco, non solo l'abito ma pure gli addobbi, i fiori e la torta nuziale. . Insomma, un matrimonio davvero romantico per l'interprete che, dopo la rottura con il rapper Big Sen, ha trovato la serenità accanto al collega Mac. . Arianna e Mac si sentono già sposati dopo due anni insieme. Insieme dall'estate 2016, Arianna Grande e Mac Miller sono molto uniti e complici. Condividono la grande passione per la musica ma anche la quotidianità. . Tanto che gli amici della coppia hanno sottolineato ai giornalisti che i due si sentono già sposati. . Il matrimonio sarebbe dunque solo una formalità, una grande festa per coronare questa splendida storia d'amore. . Due anni sono troppo pochi per diventare marito e moglie. Non per Arianna Grande, che sente di aver già trovato la sua anima gemella. . I ragazzi non possono vivere l'uno lontano dall'altro e riescono sempre a superare litigi e incomprensioni con la grande forza del loro amore. . Arianna Grande innamorata pazza del rapper Mac Miller. . Mac Miller è stato vicino alla fidanzata dopo l'attentato al concerto di Arianna a Manchester. . . . . . . .